Conforta chi piange nel dolore, risolleva la nostra gente, sostieni la mano stanca dei medici. La preghiera incessante del Vescovo Sergio Menillo, rivolta al patrono della città Sant'Ottone Frangipane, durante la solenne celebrazione tenutasi come ogni anno nella Basilica Cattedrale di Ariano Irpino. È una santità concreta, fatta di carità, fatta di una fede radicata in un territorio, di una prossimità con gli ultimi e con i poveri e con una dedizione alla comunità. Tutti elementi che arricchiscono il presente, soprattutto in momenti difficili come questi, dove viviamo e sperimentiamo non solo la povertà relazionale, la povertà economica e anche il bisogno di guardare a riabitare questi territori con più passione e più determinazione. Un anno di Covid e di lutti per la Chiesa, dalla morte di Don Antonio di Stasio a quella di Surimilia. Momenti difficili e di dolore, che il Vescovo ricorda così. È un anno nel quale la nostra Chiesa si è impegnata fino in fondo, con i sacerdoti, con le comunità messe a dura prova, con le difficoltà della nostra gente e con un'attenzione concreta e reale ai bisogni delle persone.